Questo è un attacco da noleggio e ha tantissime posizioni per regolare l'attacco. Questo è uno scarpone 36, si vede il numero di millimetri, la misura della suola, qui sul tacco, 275 mm. Andiamo a posizionare il puntale sulla cifra dei 263-270 mm, che sarebbe questo numeretto che troviamo qui. Quindi si spinge questa linguetta verso l'esterno e si fa scorrere il puntale, si lascia la linguetta e il puntale è assicurato. La regolazione invece della talloniera si fa in questa maniera, questa linguetta si spinge con le due dita in basso e la talloniera scorre anche lei sulla slitta. Lo posizioniamo sulla lettera G, facciamo scattare, a questo punto l'attacco è regolato per andare esattamente sulla misura di uno scarpone 36.